Beh, quella, Amiraglio, come andiamo? Eh, come mai in ufficio a quest'ora? Ma rimosso anche oggi? Senti, dandy da salotto, sai che non so dirti se sei più simpatico o più elegante? Quando hai finito di legare il canotto, mi sa che ti stanno cercando per la lezione di yoga. Vedrai, vedrai che relax anche oggi. E invece tu lì, si vede che sei in un tempio buddista, eh, proprio? Comunque, sai che mi stai proprio facendo venire voglia di tornare a lavorare in ufficio? Beh, ma perché dovresti? Scusa, lì ti vedo in ottima compagnia. Quando fai pausa, cosa fai? Parli con la pianta grassa, tanto trassini. Oh, ascolta, mai sentito parlare di workspace collaboration e gestione da remoto da parte dell'IT? Ehm, wow, 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 frena, casalinga di Boghera, che paroloni usi? Anche se lavoro da casa, il livello della mia produttività non cambia. Si chiama Business Continuity e Superior Employee Experience. Esatto. E scusa, e tu come fai a saperlo? E' semplice, anch'io in ufficio ho una Canon. Beh, è una Canon. Però non ti facevo così tecnologico con quei mocassini. Non ti facevo così tecnologico con la mia produttività non cambia. Beh, ¿valdi delle13 lenguazioni e sicurazioni? Spero la media, ogni sneaking dibourgali non cambia la Hopefully dainy.